ben tornati a radio design anche oggi in compagnia di paolo ciao paolo ciao nick è un piacere essere qua ed è un piacere stare qua al calduccio mentre fuori viaggiano i pinguini in realtà qui ci sono 9 gradi e se ci state guardando in video vedete questo effetto patinato molto barbara d'urso del pomeriggio 5 credo sia il programma con la luciana tutta in faccia in stile boris apri tutto ma non siamo qui per smarmellare ma siamo qui per parlare di trending topics di trend dei social media in generale del digital marketing vedendo un pochino cose successe nel 2018 e poi guardando un po al 2019 visto che ormai siamo a dicembre e natale è alle porte quindi tutti mangeremo panettoni e permetteremo 10 chili sostanzialmente ingrasseremo orrendamente continuando a dire le solite cose sui social network perché tutti un po li usano per il business o per il cazzeggio ma è più il parlarne dei social succederà questo non succederà questo devi investire da questa parte non devi investire di là tanti analisti sono tutti bravi ma davvero cos'è che succede ora noi volevamo vedere un pochino se le previsioni avevano trovato riscontro nella realtà esatto abbiamo fatto una piccola analisi intanto già anch'io con la compagna monica b su un altro programma scenario digitale dove paolo è stato anche ospite abbiamo parlato un po di trend a inizio anno per vedere se effettivamente queste cose si sarebbero avverate effettivamente è stato così quali sono stati più o meno i trend di del 2018 dicevano tutti che i video sarebbero esplosi effettivamente i video rappresentano ancora diciamo un elemento importante della comunicazione e crescerà sempre di più gli ultimi dati dicono che il 60 per traffico mondiale ho letto io proprio di dati sarà riguardo ai video poi altre diciamo trend sono lo sappiamo tutti la decrescita triste di facebook è più mesta sempre più alla deriva facebook che piano piano perde il suo effetto figaggine così lo chiamano gli analisti cool effect o come vi pare fatto sta che i ragazzini ragazzini questo è il vecchio che è in me i ragazzi giovani sono io che sono vecchio non lo possono più vedere facebook la famosa generazione z che detesta e ancora quelli successivi che non sopportano assolutamente facebook che c'è la nonna i professori il vicino di casa eccetera eccetera quindi non possono soffrirlo i famosi vecchini che mettono sempre ciao come commento i grandi buongiorno e ti ringraziano per l'amicizia un'altra la tendenza è ovviamente che oramai è un trend da anni è il mobile a discapito del desktop quindi tutto mobile sempre più mobile la crescita della intelligenza artificiale su quanto riguarda google abbiamo fatto la puntata scorsa proprio su su questo un pochino cioè gli assistenti vocali che rappresentano in qualche modo questo trend enorme gigantesco che crescerà sempre di più in futuro i chat bot questa è non è proprio una novità ma è un trend che è nato nel 2017 perché non tutti lo sanno ma il 2017 non il 2018 il traffico diciamo le interazioni sulle chat quindi sulla messaggistica privata ha superato quella sui social media e quindi è un trend che quest'anno ha cominciato a crescere ha superato l'uso dei social media in sé e il 2019 probabilmente sarà sul passo totale sì questo è un dato importante soprattutto per chi vuole usare i social le piattaforme social per fare business mi ricordo fino a qualche tempo fa bastava avere un profilo per mettere una bandierina rafforzare il brand questi sono tipi di politica che non possono più essere portati avanti la pagina facebook deve essere reattiva e questo vale anche per quella legata instagram ma non mi limito soltanto ai feedback quindi l'attività di customer care dico proprio campagne di marketing articolate tramite i canali messaggistica e mi riferisco anche a whatsapp le agenzie più intraprendenti stanno facendo enormi investimenti per essere strutturate in modo tale da affrontare dei flussi molto importanti tramite whatsapp e tramite wechat quelli che vogliono mirare mercati orientali soprattutto quindi è una realtà che può sembrare cheap scusate la parola testa di cazzo ma in realtà ha delle enormi potenzialità perché con una piccola spesa può trasformarsi in enormi guadagni pensate ai gruppi di acquisto ad esempio che sono attivi su telegram con le offerte che circolano su telegram i buoni amazon si ha affiliate marketing tantissimo tramite i canali telegram esatto esatto e sembra è una comunicazione che arriva diretta non mediata quindi hai subito il cliente in mano è già profilato ha il suo numero di telefono quindi poi chi si occupa di marketing sa che prima di tutto bisogna avere una lista di contatti di qualità e questo è il modo migliore per averla e colpirla direttamente sì poi si parlava appunto di famosi chatbot che sono nati già da due anni ma per la prima volta le grandi aziende soprattutto perché comunque si tratta di cose che richiedono un grande investimento hanno cominciato nel 2018 a investirci pesantemente già gli e-commerce ad esempio ma anche quelli che fanno funnel marketing fatti a modo hanno già tutta una sequenza di chatbot attivati e comunque anche realizzati ad hoc tramite codice quindi non tramite servizi gratuiti ce ne sono tanti magari un giorno faremo un focus su questo però il chatbot sarà sempre di più un focus anche per il 2019 e piano piano le aziende cominceranno a lavorare nella messaggistica privata piuttosto che quella pubblica perché le persone si spostano sempre di più in questa realtà diciamo privata nascosta dove la privacy viene molto più tutelata non a caso che ne so snapchat è nato proprio per questo perché i millennial avevano questa necessità di creare contenuti frivoli che potessero durare pochissimo sei riuscito a non dire foto zozze foto zozze questo lo posso dire anche sto foto zozze e poi un grandissimo trend che io almeno avevo già notato da tempo ma anche qui torna il mio amato youtube youtube lo continuo a dire esploderà e sarà sempre più importante così come gli influencer l'influencer marketing sarà un trend lo si diceva già l'anno scorso di quanto le aziende in qualche modo hanno perso quella credibilità di agli occhi di i millennial o comunque le generazioni le ultime generazioni che come noi a differenza nostra si fidano più di un influencer piuttosto che di una comunicazione broadcast molto corporate e quindi anche qui vedremo dei trend molto interessanti allora veniamo a questo punto alla nostra analisi che riguarda i trend che saranno del 2019 cosa ci aspetta nei prossimi mesi molto banalmente si riparte da una promessa che circola da qualche mesetto instagram sorpasserà facebook esatto instagram sorpasserà facebook instagram ha raggiunto credo il mese scorso un miliardo di utenti facebook ne ha due miliardi è qualcosa ma comunque soprattutto a livello di engagement c'è un calo vistoso e che è evidentissimo non solo ai marketers ma anche penso alla gente comune l'effetto cool di facebook è svanito nel senso non è più una piattaforma figa dove essere presenti ma adesso è instagram la piattaforma figa per me facebook rimane comunque the king the king ma semplicemente perché diciamo cielo instagram è per gli analfabeti funzionali questo tocco di snobismo mi fa impazzire guarda c'è questo pollice opponibile tanto amato dalle scimmie e lì si fa solo swipe io preferisco leggere qualcosa capisco che ci sono gli haters ci sono gli anziani che fanno i loro commenti inutili estemporanei pulizzi liste contatti però io preferisco comunque una piattaforma dove almeno posso informarmi dove instagram purtroppo non è questo instagram è proprio una vanity social media non saprei come definirlo è certo comunque lo apprezzo ci sto sopra capisco il potenziale però secondo me stiamo degenerando cioè se troveremo adesso piano piano arriveremo ad una situazione di black mirror dove l'unica cosa da fare è premere un così premi clic 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 vai avanti non non studi niente non impari niente ma questo è il trend il trend purtroppo non la puoi combattere e credo che proprio come strumento per il marketing una cosa che vive di pura reazione esatto parliamo cioè riporto tornando ai dati 71 per cento di chi fa business sui social sta usando negli stati uniti sta usando instagram e instagram è la piattaforma preferita di influencer circa l'ottanta per cento preferisce instagram piuttosto che altre piattaforme e poi lo ribadiamo nel dato tra i 19 e 29 anni il 60 per cento sono utenti di questa fascia d'età per instagram quindi è un trend che ormai non si ferma non si ferma resta è proprio strutturale e le strategie di marketing si stanno orientando proprio instagram perché da certi punti vista è più facile certo perché più coinvolgente riesci a portare il tuo prodotto il brand il legame col cliente lo porti a un livello più profondo perché è vero è più superficiale lo strumento come fai notare tu sì ma è più penetrante il canale perché può passare attraverso il post una sponsorizzata e fino a qui siamo come facebook però le stories sì le stories sono la cosa diciamo la novità vera degli ultimi due anni probabilmente sono è la fruizione di questi contenuti molto craft da snatchat rubato da snapchat rubato senza pietà rubato no perché la questione è questa facebook è andato da quelli di snapchat vi compriamo no anche no benissimo facciamo un copione lo buttiamo dentro instagram e ciao è successo questo altri dati tristissimi che riguardano sempre facebook sono evidentissimi si beh declino 5.6 per cento di calo tra i 12 e 17 anni questo conferma quanto abbiamo detto prima 5.8 tra i 18 e i 24 anni questi sono dati riferiti al mercato statunitense certo però sono attendibili anche da noi comunque sì 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 sono molto attendibili e per la prima volta quest'anno 2018 facebook ha perso la propria capacità di penetrazione in un pubblico 12 più quindi l'età superiore ai 12 anni e questa è una cosa nuovissima e anche tragica dal mio punto di vista per noi che abbiamo lungamente amato la creatura di del caro marcolino sì è abbastanza tragica io l'amo tuttora purtroppo è una cosa abbastanza tragica poi ecco una cosa che possiamo ancora aggiungere è questo 400 per cento di engagement che è passato da facebook a instagram a livello di interazione questo la dice davvero tutta sì 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 per chi vuole fare vuol fare business è questo il dato che è fondamentale sì un altro trend evidentissimo che riguarda la instagram sarà un passaggio che è già avvenuto effettivamente dare molto più peso ai video non al caso la ig tv per esempio un'altra novità le stories appunto dove l'investimento e l'attenzione di instagram è sempre più grande non rubando sempre tutte le idee di snapchat quindi che sono i face filter e quant'altro tutte cose innovative che vengono aggiunte continuamente alle stories e quindi eh lì sicuramente bisogna stare attenti e e comunque c'è da dire una verità grandissima che instagram ehm a differenza di facebook richiede una un impegno creativo gigantesco costanza questa è la differenza eh laddove prima un un freelance come può essere me come può essere te poteva gestire più aziende in contemporanea adesso eh c'è comunque bisogno di una presenza che può essere anche fisica all'interno dell'azienda senza dubbio tutto sta cambiando diventa sempre tutto più complicato come al solito le cose qui non si semplificano mai 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 eh l'investimento deve essere grandissimo per esempio altri dati 300 milioni di utenti attivi quotidianamente sulle stories quindi parliamo di un terzo degli utenti di instagram che usano le stories mentre probabilmente l'altro 60 per cento o è passivo o comunque ogni tanto posta qualcosina quindi quasi la totalità degli utenti instagram programattivi usano le stories che sono comunque un elemento cardino ormai nella comunicazione e qui si ricollegano due elementi che avevi citato tu prima la tendenza verso i video e le stories sono in larga parte contenuti video e poi questa tendenza verso un marketing che può costare meno perché eh tra le forme di resistenza che le aziende hanno avuto nei confronti di contenuti video c'è il costo non avere il know how per realizzare le stories portano a battere questo tipo di costi portano a battere le barriere legate al know how ma richiedono una presenza costante come dicevi tu non si può fare una stories una settimana puoi lasciare perdere facebook permetteva ad esempio di fare delle campagne sponsorizzate anche molto blande perché contavano le metriche non serviva a bombardare anzi era un controproducente instagram richiede una certa dosi di bombardamento perché se no sei un amico che se ne frega certo quindi c'è devo cambiare deve cambiare anche il lavoro in agenzia da molti punti di vista quindi sarà molto più complesso avere plurimandati c'è sempre più figure che seguiranno un'azienda barra due aziende se non facile costerà anche tanto di più e far passare questo messaggio le aziende però potrebbe fruttare tanto di più se questo è questo il nodo e dovremo capire se il gioco vale la candela e questo si si stabilisce solo attraverso prove ed errori ancora troppo presto per dirlo sì ancora numeri interessantissimi sono la media di 32 minuti al giorno per gli utenti sotto i 25 anni attenzione 32 minuti sono tanti perché laddove c'è uno che non fa una mazza un altro ci sta tre ore per facendo la media e 24 minuti quindi qualcosina meno per gli utenti eh che vanno sopra i 25 anni quindi eh anche i trentenni comunque i nostri coetanei anziani detto col capo basso detto col capo tristissimo sono sempre più presenti su sulla piattaforma instagram effettivamente poi ancora eh le novità che abbiamo visto l'anno scorso e che continueranno a farla da padrone sono gli highlights quindi quelle storie in evidenza che trovate su instagram il famoso swipe up quindi la possibilità per gli utenti verificati business sopra i 10.000 utenti di poter far fare un swipe up all'interno delle stories e quindi creare traffico lead generation un altro modo di eh appunto eh cercare le conversioni cercare conversione e eh e speriamo sempre di più eh del un'analisi delle metriche eh più approfondite perché effettivamente instagram fa ancora schifo da questo punto di vista da questo punto di vista è davvero acerbo sta ora sviluppando come abbiamo detto i meccanismi giusti per differenziarsi dal per quanto riguarda l'utenza business tuttavia quello che caratterizza il marketing digitale è la misurazione di ogni fattore questo lo differenzia dal marketing tradizionale tutto può essere enumerato instagram ancora non mette al servizio del business gli strumenti adeguati però ci arriverà perché conviene esatto torniamo poi a quello che abbiamo detto all'inizio cioè eh il grandissimo trend che riguarda la messaggistica privata per dirvi eh questo è un dato che io per esempio non mi aspettavo un uso così massivo di facebook messenger che eh a me personalmente non piace più di tanto come piattaforma di messaggistica privata preferisco di gran lunga per me telegram che resta sempre il top ma eh non è troppo per i nerd e whatsapp però anche il me anche messenger eh ha dei un miliardo trecento milioni di utenti attivi quindi circa la metà degli utenti di facebook si sono spostati nella messaggistica privata quindi la diciamo facebook diventa sempre più eh ha sempre di più un'utenza passiva che eh più che altro osserva i contenuti creati piuttosto che generarli ed è un grandissimo problema perché l'abbiamo detto più volte il social network senza qualcuno che lavora per il social network non esiste facebook si è molto 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 seduto e sta valutando opzioni alternative vi ricordate quando le due applicazioni sono state splittate da una parte facebook e dall'altra messenger era una politica volta alla conservazione a sopravvivere infatti ora il canale di business è diventato paradossalmente messenger non l'app principale infatti adesso quando andate a fare delle campagne in automatico facebook ti propone di sponsorizzare nella messaggistica privata i post che dal mio punto di vista perti alcuni tipi di post eh nativi realizzati apposta per la piattaforma facebook presto spostarli di là non ha tantissimo senso devi farne campagne ad hoc tra qualche anno forse ma ancora secondo me soprattutto per quanto riguarda l'utenza italiana certo presto risulterebbe molesto sì abbastanza molesto io noto che eh ho fatto dei tentativi e eh un pubblico più adulto più naif a bocca diciamo parlavi di noi parlavo di più 50 più 60 che a bocca tantissimo noi siamo ancora esseri senzienti paradossalmente poi ancora whatsapp che ha raddoppiato già nel 2017 i propri utenti adesso ha superato il miliardo e mezzo di utenti quindi stiamo parlando di numeri giganteschi se non ci fosse we chat probabilmente whatsapp avrebbe già oltre 3 miliardi di utenti senza dubbio è we chat il competitor a livello globale soltanto milioni però parliamo di un di un'applicazione che è confinata in larga parte ci sono anche utenti in occidente però è confinata in larga parte all'utenza cinese che ha un ecosistema per quanto riguarda il digitale lo ricordiamo completamente a sé stante quindi quello è un mercato che è difficile da aggredire proprio perché usa i propri strumenti una un proprio universo di applicazioni e di siti ma quando i big riusciranno a intaccare queste queste barriere se mai ci riusciranno le le possibilità di guadagno saranno colossali esatto l'altra cosa interessante che riguarda sempre il 2019 e uno sguardo più attento alle nicchie ci sono sempre più nicchie soprattutto app nate negli ultimi tempi come per esempio neighbors io l'ho scaricato mesetto fa praticamente come è molto simpatica un'idea geniale nata sempre dal disagio che vivono gli americani con la loro sociopatia incapacità di conoscere gli altri in pratica un ragazzino di vent'anni indiano americano di origini indiane ha sviluppato questa app geniale che è stata diciamo indicata come una tra le app più importanti del 2018 che ti permette di conoscere i tuoi vicini ecco paradossalmente prima era facilissimo conoscere i propri vicini adesso è praticamente impossibile nelle città medio grandi io ho tra l'altro avuto questo onore di attivare la zona di corso garibaldi qui a perugia sono l'unico fammi capire per corso garibaldi ti serve un'app serve un'app sempre saiti due stronzo invece adesso praticamente ho creato io il quartiere di corso garibaldi in modo digitale con neighbors e adesso man mano le persone che si iscrivono ricevono una lettera a casa quindi se un utente effettivamente verificato quel luogo e puoi creare la tua rete di amicizia una lettera si ti arriva come tipo google un codice di attivazione della tua presenza in un quartiere tramite neighbors molto interessante quindi io potrei generare potrei dar vita a un esercito di pazzi a porta pesa e potremmo riunirci visto che siamo vicini te lo consiglio scaricate neighbors tra l'altro eh nei stati uniti questa app esplosa totalmente perché pensate New York dove un quartiere può essere rappresentato da 200 mila persone no eh pensate voi che tasso di crescita può avere questo questo tipo di app ci sono poi altre mille nicchie ovviamente che ne so i nerd della birra hanno la propria app dove le valutazioni delle birre e quant'altro quindi eh per ogni cosa c'è una nicchia e le le persone si spostano sempre di più all'interno di di questi micro ambienti micro mondi che bisogna tenere sempre a portata di mano quando bisogna fare una strategia di comunicazione il motivo è quello di prima però avere contatti di qualità chiaramente un'applicazione così settoriale segmenta perfettamente quindi tu che hai un business che hai un prodotto da portare avanti se hai già il mercato segmentato se hai già una lista di contatti potenziali clienti da colpire da da attivare possibilmente il tuo lavoro è nettamente facilitato ecco perché il meccanismo della nicchia non è antistorico come potrebbe sembrare ma è perfetto e funzionale al business sì esatto esatto altri trend eh una crescita esponenziale che abbiamo visto anche su instagram ad esempio che riguarda l'uso delle emoji non ce la faccio più tantissima l'uso delle emoji crea un'ansia terribile quindi emoji gif stickers ovviamente la generazione z e millennial sono super amanti di questi modelli eh di comunicazione e che trovano sempre più eh ampio spazio nella comunicazione digitale e non solo perché ormai sono diventati proprio fenomeni di costume fanno ci fanno i film sulle emoji ormai infatti abbiamo anche dei numeri pazzeschi tipo il 50 per cento di tutte le captions quindi dei testi e dei commenti contengono un emoji quindi uno su due 700 milioni di emoji vengono usate su i facebook sui post di facebook ogni giorno 25.000 gif e inviate al minuto sui messaggi di facebook qui un po' sono anche mie e gli stickers sono ovviamente ovunque nelle instagram stories fenicotteri come se piovessero continuo di fenicotteri e fiamme l'organic reach è morta ci chiediamo a questo punto sì in un certo senso ecco per giusto per dare un dato un dato tristissimo sempre di facebook la reach organica di facebook è ha raggiunto circa l'un per cento quindi facciamo un esempio classico se abbiamo mille fan su facebook la media di persone che vedono un post a me va molto meglio quindi non mi posso lamentare però i dati effettivamente sono questi se guardiamo a pagine ben più grandi può succedere volte gente che conosco che ha pagine a 200 mila follower che raggiungono che so ma cinquemila persone non stupisce non stupisce perché c'è stato un periodo d'oro dove si poteva fare prima all'organico online tanto tanto tempo fa su google e poi quello su facebook ma alla fine quello che serve a facebook è monetizzare quindi se tu usi la sua piattaforma gratuitamente dopo un po' non riuscirai più a fare business torniamo sempre poi a alla questione delle nicchie per esempio un caso classico di facebook che funziona ancora tantissimo sono i gruppi di facebook dove creare micro community molto attive molto più attive i gruppi delle pagine piuttosto che agli account personali delle persone paradossalmente abbiamo avuto per esempio avuto il piacere di avere qui come ospiti fotografie segnanti grandi che è una pagina da 900 mila follower su facebook che ha un engagement rate altissimo ci hanno dato qualche numero anche loro giocano molto anche come anche altre pagine come commenti memorabile quant'altro su dei gruppi su coltivare user generated content cioè contenuti generati dai propri utenti dai propri fan fanno camera dieco questa è un'altra cosa interessante un'altra grandissima trend sono i video live il fatto che un contenuto sia live sia su facebook che su instagram dove è possibile fare live è un è che nacque sempre tramite twitter poi rubato con periscope se vi ricordate periscope uno un'app di milioni di anni fa intanto abbiamo un utente che ci guarda live che ci saluta poi ancora vabbè le instagram stories lo sappiamo tutti sono un trend gigantesco sono già esplose sono già esplose e cos'altro possiamo dire che più o meno sono questi trend sì possiamo riassumerli un po sì sì proviamo a riassumerli velocemente quindi dicevamo i video i chat bot l'intelligenza artificiale la realtà aumentata non l'abbiamo detto aumentata dove snapchat ha avuto la grandissima capacità di innovazione negli anni scorsi ma anche ma anche ora anche facebook gli occhiali snapchat si è inventato gli occhiali brevettati sì che mi ricordo fecero anche grandissime idee geniali anche di marketing tipo che ne so una produzione limitata il fatto che ci fossero dei distributori come di caramelle con gli occhiali sono alcune città la grande strategia che però anche lì purtroppo poi quando è arrivato facebook è finito tutto quando ti mangiano quando ti mangiano è abbastanza facile anche facebook con oculus di mark zuckerberg sta giocando tantissimo sulla realtà virtuale e la realtà aumentata e questo sarà sicuramente un trend pazzesco del futuro questo è ancora comunque un orizzonte da scoprire non è un orizzonte esploso ancora quindi ancora ne deve passare un po di acqua sotto i ponti prima che diventi un grande strumento per il business sì un'altra cosa che secondo me che già si è consolidata ma troverà una larghissima diffusione saranno sempre di più strategie di marketing che includono l'uso degli influencer quindi sempre più blog tour sempre più viaggi organizzati con influencer quindi se avete in mente l'idea di buttarvi in questo mondo forse conviene più che fare il freelance diventare un influencer se avete la capacità perché magari avrete più capacità di monetizzazione un domani secondo me e poi appunto il declino di facebook la crescita esponenziale di instagram tutto video video manetta video 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 ovunque sia live che stories contenuti sempre più craft più veri le persone sono annoiate tantissimo dei contenuti non ne possono più e più o meno questo non abbiamo detto la morte di twitter ma la morte è già morto per me cinque anni fa è un funerale da non celebrare neanche più oramai ciao anzi c'è un dato bellissimo che abbiamo letto che praticamente la media di interazioni che fanno i twitter è di uno se non zero interazioni di media è finita ed è veramente finita finita nonostante questo però i dati riguardanti il mercato americano fanno registrare ancora residui investimenti su twitter cioè per un certo tipo di comunicazione legata per l'appunto al personaggio da seguire trump trump non dico che ci abbia vinto le elezioni su twitter però ha fatto molto su twitter per seguire personaggio famoso ancora funziona dopodiché se arriva a pinco pallo nessuno se lo caga quindi anche la vostra azienda non troverà grandi sbocchi su twitter semmai linkedin se ci si vuole riferire a un altro tipo di utenza più business e nei stati uniti è molto usata da livello pubblicitario linkedin anche se da noi può sorprendere questa cosa mentre twitter ormai è davvero davvero il passato twitter da noi è diventato il passato cinque sei anni fa ma da noi non è mai diventato veramente twitter secondo me no no mai solo per un periodo nel 2010 11 aveva cominciato a prendere fecero una cosa bella cioè appunto sfruttare degli influencer ebbero questo in tutto mi ricordo fiorello che aveva cominciato a lavorare molto su twitter e quindi tantissime persone comuni tra virgolette siano spostate lì per seguire i loro idoli ma poi appena le persone hanno abbandonato questa piattaforma anche gli utenti medi non ci sono rimasti ma figuriamoci se il trend instagram cioè fare come le scimmiette swipe swipe sempre più velocemente però figuriamoci twitter dove è una porta che ha aperto twitter mi spiego perché era quella di compendiare un contenuto anche complesso in cento i famosi 140 caratteri questo da una parte ha stimolato il confronto da certi punti di vista ma dall'altro anche impoverito già il dialogo e siamo partiti proprio da là e ora siamo arrivati a dialogo assente cioè dove non ci si confronta più sui temi ma è un soliloquio semplicemente di una realtà magnifica e colorata che è quella di instagram quindi siamo arrivati proprio a questo non c'è neppure più bisogno di contraltare di tesi antitesi si va dritti per la propria strada imponi la tua immagine e questo in termini di business da un certo punto di vista rende più facile la scrittura lancia il tuo pronostico per il 2019 a fine 2019 cosa accadrà a fine 2019 finalmente la realtà virtuale diventerà uno strumento fattivo non non soltanto un attrezzino per i videogiochi ma avrà delle applicazioni che rivoluzioneranno il modo di fare business e arrivare al cliente io aggiungo che secondo me questo trend della iot e della voice search esploderà sempre di più cominceremo avere siri o comunque dispositivi sempre più dialoganti questo secondo me sarà un trend pauroso che crescerà tantissimo un altro trend pazzesco sarà per me quello di appunto youtube tantissime aziende cominceranno finalmente a credere in contenuti video su youtube che è stata sempre una piattaforma un pochino messa ai margini in realtà ha un potenziale gigantesco e ovviamente purtroppo facebook quest'anno non so cosa accadrà o facebook si inventa qualcosa o rischia di sparire facebook in questo momento sta diventando come la massa per me no però per la massa è diventato la carta di identità ora in questo momento cioè ti può non piacere si stropiccia si rompe si scassa ma la carta di identità la devi tenere nel portafogli per legge ormai l'identità digitale il profilo facebook e un livello di penetrazione simile è difficile da replicare in tempi stretti quindi per il momento facebook non sparirà io non ho dubbi su questa cosa entro un anno no però però dovrà riuscire a affrontare questa transizione dovrà sicuramente essere gestito questa è una mia opinione anche a livello di filtro contenuti e assistenza per chi fa business in una maniera diversa perché non è possibile che così poche persone si occupino della sicurezza su facebook e poi sorprendersi perché vengono fuori elezioni delle quali vengono disconosciuti i risultati il giorno dopo sì questo è un altro problema gigantesco un grossissimo problema e poi un grande trend secondo me sarà questo appunto delle nicchie come dicevamo le persone si rinchiuderanno sempre in più in micronicchie quindi che ne so quelli che amano quel videogame si ritroveranno lì dentro in quella piattaforma ci sarà sempre più questa diciamo parcellizzazione dei mondi digitali se prima tutto il mondo era racchiuso in facebook adesso c'è questa gente rifugia un pochino da questo mainstream e e si rintana un po' in che sono nella app dove facciamo questo però esistono anche i gruppi potrebbero essere proprio le nicchie a salvare facebook paradossalmente allora ci hanno provato vediamo se tiene botta e se riusciranno in qualche modo a a diciamo a riuscire a bloccare questa emorragia sì è devastante ma l'emorragia per quanto riguarda l'utenza più matura c'è non c'è quella dei ragazzi ma soprattutto non parliamo di emorragia parliamo proprio di un'educazione a facebook che in questo momento non c'è i ragazzi non ci entrano non non vogliono avere a che fare con facebook in questo momento perché è uno strumento troppo complesso vorrei dire io per loro perché comunque il digitale è diventato ormai diventato un prolungamento del nostro corpo è fisico non vuole più mediazioni soprattutto le ultime generazioni non vogliono più una realtà mediata vogliono subito entrare in scena vogliono toccare la foto il like ad esempio il like su instagram sto so che sto per dire una banalità ma si mette like toccandola certo addirittura è verissimo infatti snapchat era partito a bomba per quello esatto snapchat era senza filtri sì senza filtri e non rischiavi niente quindi ma si mandiamoci le peggio porcate eccetera eccetera tanto tutto andrà via quindi è un social che ti deresponsabilizza sì sì è vero è vero disintermediazione totale entro nella vita dell'influencer del ricco sì vedo con i suoi occhi quello che lui fa e la tendenza è questa disintermediazione totale infatti trump è riuscito a vincere grazie a questo secondo il fatto di comunicare one to one per la prima volta forse è stato il primo presidente a fare una cosa del genere mediata se sappiamo tutti cambridge analitica eccetera va bene anche l'ultimo ma magari ma non lo so se ce la facciamo però è ok diciamo che abbiamo fatto un discorso non tra corposo abbiamo esagerato probabilmente è riuscito a seguirci per intero è un errore e allora questo punto ci vediamo la prossima volta cerchiamo di trovare un altro tema sempre così proficuo è interessante ci vedremo dopo il la prossima settimana la prossima settimana sempre lunedì se non sei sempre in giro per il mondo sì tornerò torno sabato quindi lunedì saremo ancora qui a parlare di digitale di mondo digitale tecnologie e sarà un piacere vi vogliamo bene